E' seguita una misura di prevenzione nei confronti di un soggetto con spiccata pericolosità sociale, il Tribunale di Catania, che ha accettato la richiesta portata avanti dalla proposta del questore di Siracusa. E' dunque il siracusano di 23 anni, già sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, adesso dovrà allontanarsi da Siracusa. L'uomo infatti risulta facente parte di un gruppo criminale operante tra Via Italia 103 e Via Immurdini, contigua al clan Bottaro Attanasia, per conto del quale gestisce il traffico di stupefacenti. In diversi episodi ha elargito anche pesanti minacce rivolte nei confronti del personale di polizia. Il giudice gli ha predisposto di allontanarsi per due anni dal comune di Siracusa, di fissare stabile dimora presso un'altra città, ove trovarsi un lavoro onesto e di versare a titolo di cauzione 3.000 euro presso la cassa delle ammende. Intanto è stato arrestato anche un uomo per atti persecutori nei confronti dell'ex fidanzata. È un siracusano di 36 anni, conosciuto alle forze di polizia, gravemente indiziato del reato di atti persecutori, nei confronti dell'ex fidanzata una donna di Palermo di 32 anni. L'uomo aveva comportamenti violenti, volgari e morbosamente gelosi. L'uomo dopo le incommense di grito è stato condotto in carcere. I carabinieri di Siracusa hanno sequestrato 10 kg di fuochi d'artificio illegale. È stato denunciato l'uomo che li custodiva. Nel fine settimana, infatti, i carabinieri hanno rivolto attenzione nell'approfondimento di un noto fenomeno tipicamente cittadino, quello dello scoppio non autorizzato dei fuochi d'artificio da parte di soggetti privati, che per celebrare ricorrenze o situazioni del tutto private organizzano spettacoli pirotecnici sulla pubblica via senza avere alcun titolo autorizzativo. Si tratta di manifestazioni che spesso non si limitano all'esplosione di qualche petardo, ma che degenera il più volte in rumorose e impressionanti esibizioni, operate in piena notte. I carabinieri hanno raccolto informazioni su un soggetto siracusano, classe 89, con precedenti per materia di armi ed esplosivi, che si riteneva detenere copioso materiale esplodente da mettere in vendita per costoro che volevano organizzare eventi clandestini. Nell'abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati 10 kg di fuochi d'artificio e giochi pirotecnici privi di marchio di conformità e di etichettature di certificazioni detenuti dallo stesso senza autorizzazione. Dopo il sequestro e la denuncia, i carabinieri stanno ora effettuando approfonditi accertamenti, al fine di poter ricostruire la filiera dell'approvvigionamento del materiale e tentare di stroncare il malcostume dello sparo serale dei fuochi d'artificio per futili motivi. Anche a Siracusa controlli su mezzi pesanti e autobus sono state portate avanti la campagna europea congiunta denominata Track & Bus European Roads Policing Network, che l'ha organizzata dall'8 al 14 febbraio. La Polstrada di Siracusa ha controllato 75 veicoli per trasporto merci, 35 dei quali sono stati sanzionati, controllati anche 12 autobus di linea rispettati i protocolli Covid. 7 sono state le infrazioni rilevate per eccesso di velocità, 3 veicoli sono stati sanzionati per violazioni sui tempi di guide di riposo e 1 per violazioni delle dimensioni, mentre 6 sono state le infrazioni accertate per irregolarità riscontrati nei documenti del conducente dei veicoli. Inoltre sono state rilevate 5 infrazioni per gravi violazioni al trasporto merci pericolose e 36 per altre violazioni delle norme del Codice della Strada. L'ospedale di Maria Diavola ha reso possibile la speranza di vita per chi è in attesa di un trapianto, grazie alla sensibilità dei familiari di un donatore di 66 anni deceduto nel reparto di rianimazione diretto da Di Stefano, dove era ricoverato per una lesione cerebrovascolare. Dopo il consenso e il completamento delle procedure avviate, l'equipe chirurgiche del trapianti di fegato di Napoli e del trapianto di Reni di Catania hanno raggiunto il blocco ospedaliero dell'ospedale Avolese, dove hanno proceduto il prelievo di fegato e Reni, mentre l'equipe dell'olfatumologia dell'ospedale Umberto I ha prelevato le corne che sono state destinate alla banca degli occhi. La Sicilia da oggi è diventata zona gialla. L'intervento da parte della regione per comunque richiamare alla cautela e al rispetto delle regole per non intercorrere di nuovo a sanzioni di colore arancione o rossi che hanno contraddistinto la nostra regione nell'ultime settimane. Il dato rimane comunque positivo, quello relativo ai contagi giornalieri di Covid-19. L'ultimo bollettino della regione parla di 479 casi con 24 decessi e ancora per la provincia di Siracusa soltanto 34 nuovi casi in più rispetto al giorno prima. Intanto anche in Sicilia si espandono i casi di variante inglese e in provincia di Siracusa parte la campagna di vaccinazione AstraZeneca. Interviene l'ex presidente della provincia regionale, oggi libero, Consorzio Nicola Bono. L'onorevole parla del sequestro del carcere borbonico di Siracusa effettuato dai carabinieri della sezione per la tutela del patrimonio culturale che hanno eseguito il sequestro preventivo dell'edificio monumentale, sede dell'ex carcere, sito in Ortigia. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Siracusa su richiesta della locale procura. L'attività, infatti, di indagino ha consentito di verificare e documentare lo stato di abbandono dell'immobile, il grave deterioramento determinato dalla persistenza o omissione dei lavori necessari alla messa in sicurezza e all'adozione di qualsivoglia provvedimento volta ad evitarne il degrado. I suoi proluoghi hanno permesso di verificare danni consistenti ad elementi strutturali che rendono attuale il pericolo di crollo. L'ex presidente della provincia, Nicola Bono, parla di un immobile che fu trovato al suo insediamento in uno stato di degrado e che, con la disponibilità di un milione di euro concessa con la legge del terremoto di Santa Lucia, si mise in sicurezza il tetto e pochi altri elementi strutturali dello storico immobile. I lavori furono realizzati nel giro di pochi mesi, dice Nicola Bono, ma l'aspetto più grave è la mancanza di una definitiva destinazione d'uso dell'immobile che doveva essere fatta al tempo dal comune di Siracusa, che invece non si è espresso perché la provincia aveva presentato la richiesta di trasformarla in un hotel a 5 stelle per poter offrire l'immobile con proposta di restauro e riuso, quale albergo, col sistema del project financing e quindi a carico del soggetto che si sarebbe aggiudicato alla realizzazione del restauro. Ma nel marzo 2009 il comune decise di respingere tale modifica. Il carcere doveva essere uno spazio culturale polivalente, ma Nicola Bono sottolinea che non meno di 25-30 milioni di euro si sarebbero dovuti procurare per poter portare avanti questa iniziativa. Alla luce del sequestro operato dall'autorità, che è la prova del raggiungimento del punto di non ritorno, occorre che scatti da parte della cittadinanza e delle istituzioni, in primo luogo il comune di Siracusa, chiude l'onorevole Nicola Bono, l'impellente esigenza di difendere con ogni mezzo l'immobile storica, a partire dall'immediata revisione delle scelte finora effettuati a correre a ripari. Presto la ripavimentazione della Marina. Si è fatto infatti un sopralluogo scorsa settimana, e intervengono sulla questione il Sindaco Italia e l'assessore Granata. Grazie alla disponibilità del Governo della Regione, sarà riqualificata la passeggiata storica, che per una parte è di competenza del demanio, e versa da tempo in condizioni precarie proprio alla Marina. Ne danno notizie il Sindaco e l'assessore, che hanno effettuato un sopralluogo con l'assessore regionale all'infrastruttura e mobilità a Falcone, con Giuseppe Pollicino dell'ufficio di gabinetto del Presidente di Nello Musumeci. La nuova pavimentazione sarà realizzata in pietra di Siracusa, e si conta di completare lavori entro pochi mesi. Nel sopralluogo è servito a fare il punto su un intervento più esteso, da compiere con un finanziamento della Regione, sul progetto dell'amministrazione comunale, che riguarderà la villetta, la spiaggetta, il muraglione, e l'area della fontana retusa, comprese le ringhiere. Francesco Italia e Fabio Granata ringraziano per l'attenzione dimostrata verso la città, sia da parte dell'assessore che dal professore. Si aggiunge un altro intassello alla rigenerazione della bellissima Marina di Ortigia. La consulta civica di Siracusa lamenta con il suo referente Desimone la mancata partecipazione del Comune di Siracusa a progetti finanziati in favore dello sport nei parchi. Uno sfregio alle associazioni sportive, sottolineano. Il presidente Damiano Desimone si dice preoccupato per l'assenza di una programmazione che possa rilanciare il settore sport e tempo libero in città. Un problema che si amplifica per la mancata partecipazione del Comune al progetto sport nei parchi, con la possibilità di ricevere i finanziamenti di 25 mila euro per attrezzare aree specifiche. Una giornata dedicata ai rider per informarli e formarli sui loro diritti e sui loro compensi. Sarà così che la FIT CISL Siracusa domani aprirà in iniziativa nazionale la propria sede di Via Arsenale. L'iniziativa fa parte dell'Open Day organizzato dalla FIT CISL nazionale, spiega Alessandro Valenti, segretario generale della categoria. Durante la giornata ai rider della provincia potranno raggiungerci nella sede per essere informati sul contenuto nel contratto collettivo nazionale logistica, trasporto, merci, spedizione, unico a regolare il loro rapporto di lavoro e le norme di sicurezza. L'obiettivo è di rendere i rider più consapevoli dei diritti in modo che possano contribuire effettivamente allo sviluppo ordinato del settore. Primi studenti floridiani stamani che hanno potuto risalire i gradini di autobus dell'azienda siciliana Trasporti, con un abbonamento accessibile di 16 euro al mese, 8 euro per gli ultimi 15 giorni di febbraio, 16 previsti per il mese di marzo. Divisi perplessi scolastici dalle 7 di questa mattina, peraltro Gelida, hanno con in mano l'abbonamento fatto ingresso sui mezzi, che per dimensione transitano da Contrada Marchesa dinanzi allo stadio alla villa comunale per poi proseguire alla rotatoria di Vigna Longa e scendere lungo via Scalorino, con due fermate in prossimità di via Crispi e via Vittorio Veneto. Presenti all'avvio del servizio, punto cardine del programma elettorale della giunta guidata dal giovane sindaco Marco Carianni, i coordinatori responsabili dell'AST, l'assessore comunale alla pubblica istruzione Paola Gozzo e i vigili urbani. Ricognizione per migliorare il servizio, che prevede l'aumento dell'utenza. Sono circa 400 le domande pervenute in comune per adesso, a cui si potrebbero aggiungere coloro che hanno dovuto organizzarsi con gestori privati o con mezzi personali. Stamattina parte finalmente il servizio alunni pendolari, il servizio di trasporto interrotto parecchi mesi fa, un servizio di cui i ragazzi floridiani non usufruivano più. Le famiglie hanno pagato una cifra molto alta per mandare figli a scuola. Questa amministrazione aveva tra gli obiettivi prioritari quello di restituire ai cittadini e sollevare le famiglie dall'inconvenza di questa spesa, perché abbiamo provato a garantire a tutti quello che per noi è un diritto fondamentale, ovvero il diritto allo studio e all'istruzione. Abbiamo cercato di fare il massimo con quel poco che abbiamo, nel senso abbiamo riattivato intanto interessando l'azienda dei trasporti siciliani, quindi l'azienda pubblica, e abbiamo provato a fare una spesa che riguardasse semplicemente quello di cui gli alunni realmente in questo momento soffruiscono, ovvero il 50% del servizio, poiché le scuole come sapete in questo momento sono in DAD. Per marzo noi andremo intanto in regime sempre del 50%, quando parlo del 50% intendo 50% di spesa di compartecipazione tra le famiglie e il comune, l'ente comunale. A marzo si pagherà un costo di 16 euro le famiglie e 16 euro il comune appunto di Floridia e i ragazzi, comunque i ragazzi saranno garantiti non solo il servizio ma anche le normative covid di sicurezza. Infatti i pullman sono dei pullman capienti e la capienza è appunto ridotta al 50%. Intanto il coordinatore Aste Giacotto presente stamattina ha sottolineato che sono impegnati 5 pullman da 18 metri, divisi, perplessi e che accompagneranno gli studenti dinanzi alle proprie scuole. Per il ritorno previste tre fasce di rientro alle 12.30, un giro scuole per raccogliere studenti con uscita anticipata, poi alle 13.20, quindi alle 14.15. Un servizio dedicato proprio per gli studenti. Si prevede peraltro un potenziamento dei mezzi, l'azienda siciliana Trasporti ha promesso altri 5 mezzi nuovi che saranno utilizzati proprio per le tratte degli studenti pendolari tra Floridia e Siracusa. Un lavoro di concerto ben riuscito, dice il sindaco Carianni, tra comune, regione e Aste, lavoro che ha permesso il ripristino di un importante servizio. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie. Grazie.